Salve a tutti, benvenuti a tutti voi su saiwisdom.com Grazie a Swami per averlo reso possibile, spero e confido che seguirete l'intero discorso e avanzerete con i vostri suggerimenti e commenti. Grazie mille per il vostro tempo. Bene amici miei, in questo momento siamo totalmente confusi. Abbiamo con noi una nuova generazione che non ha conosciuto Swami, non hanno visto Swami. La maggior parte non ha neppure attraversato, non ha neppure conosciuto la sua letteratura. E molti anziani hanno avuto un contatto intimo con Swami, o se ne sono andati o sono lontani da noi. Quindi la nuova generazione con noi oggi è confusa. E abbiamo un'altra categoria di devoti che sono, si trovano in un dilemma su cosa fare e su cosa non fare. Essere o non essere, questa è la domanda di questo gruppo. E la terza categoria di devoti sono quelli che sono semplicemente silenziosi. Il loro atteggiamento è quello di lasciare andare le cose, lasciare perdere, non siamo preoccupati. Quindi io chiamo questo il gruppo indifferente. C'è una sezione di devoti che rimangono qui a causa dei loro figli che studiano negli istituti scolastici. Questi devoti di Prashantinilayam, in linea di massima, sono studenti, personale, ospedaliero e paramedico. Ma gli studenti vanno e vengono. Subito dopo aver completato gli studi, se ne vanno. Al momento non possiamo fare affidamento sulle istituzioni educative per impartire il messaggio di Sai agli studenti. Dobbiamo motivare gli insegnanti in modo che siano preparati e devoti per divulgare il messaggio di Sai agli studenti. Di modo che possano ispirare gli studenti ad essere dei veri messaggeri di Sai in futuro. Così com'è non trovo tali discorsi o corsi motivazionali che guidano i membri della facoltà dell'università a focalizzare l'attenzione su suami. Comunque non per mia conoscenza. Questo deve essere ripreso il prima possibile. I devoti che sono indifferenti, che non sono consapevoli o infastiditi da ciò che sta succedendo, non possiamo aiutarli. E poi ci sono quelli che non sono interessati alla missione di Sai, ma sono interessati solo ai loro studi o ai loro figli. Non si preoccupano di ciò che sta accadendo, proprio come questi devoti che sono tutti indifferenti. Non possiamo fare a meno di essere indifferenti a loro volta. Ma possiamo aiutare le persone confuse, le persone che si trovano in un dilemma, non sapendo cosa fare o non fare, ciò che è corretto e ciò che non è corretto. E possiamo anche aiutare la nuova generazione che ha visitato Prashantini Ilayam e i centri Sai di tutto il mondo. Possiamo informarli e aiutarli su ciò che Baba ha detto in diversi argomenti. Tenendo presente tutto ciò, vorremmo condividere con alcuni dei nostri spettatori determinati punti di interesse. Pertanto, amici miei, l'argomento di questo discorso è la necessità del momento. Qual è il bisogno del momento? Mettiamoci in discussione. Cercherò di riassumere e mettere il più brevemente possibile gli scopi e gli obiettivi di ciò che Baba ci ha detto e le qualità che dovremmo avere. Ha detto molte cose, ma per il momento ne voglio condividere con voi solo un paio. Il primo e più importante che Dio ci ha dato è l'intelletto. A cosa serve? L'intelletto è uno strumento decisionale che ci viene dato. è giudicante, è dotato del potere della discriminazione. Dovremmo sapere cosa è giusto e cosa non lo è. Quindi esercitiamo tutto il nostro intelletto e discriminiamo per sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Baba lo disse nel mese di agosto, il 28 agosto 1996. Egli parlò dell'intelletto e di ciò che noi, di quello di cui non siamo consapevoli riguardo all'intelletto interiore. Noi rimaniamo così come siamo, come siamo. Quindi, amici miei, svegliatevi, dai, svegliatevi. Facciamo attenzione al nostro intelletto e proviamo a discriminare tra ciò che è giusto e sbagliato. Come dice Baba, ciò che è effimero, che cos'è che è effimero, che cosa è eterno? Cosa è che è effimero, transitorio, momentaneo, mondano, terreno? E che cos'è che è eterno e immortale? Ciò che Baba voleva che facessimo è di conoscere questo. Pertanto la discriminazione deve essere particolarmente esercitata al giorno d'oggi. E poi in questo processo voglio avvertire tutti, i devoti in generale, i giovani in particolare, ciò che Baba ha detto, che dovremmo essere molto attenti nei confronti delle nostre associazioni. Non possiamo muoverci con tutti. Coloro che sono contro i nostri principi, quelli che sono contro le nostre norme, quelli che sono contro gli insegnamenti di Swami, non possiamo noi mescolarci con loro. Quindi dovremmo esercitare la nostra scelta e scappare dalle cattive compagnie. Come ha detto Baba, scappate dalle cattive compagnie. Altrimenti, allora potreste chiedermi qual è la compagnia buona e qual è quella cattiva? Una buona compagnia è ciò che concorda con i principi di Sai, il modo di vivere di Sai e gli insegnamenti di Sai. Questo è ciò che noi chiamiamo Satsang. La cattiva compagnia è ciò che vi porterà lontano dalla retta via, che alla fine vi renderà più deboli. Dimmi chi è la compagnia che frequente e ti dirò chi sei, disse Baba molte volte. Perciò, amici miei, oggi tutti dovranno stare attenti nella scelta della loro compagnia. Ci sono alcune persone che quando sono con noi cercano di distogliare la nostra attenzione. Proveranno a fraintendere fatti e dirti certe cose di cui non devi a conoscenza. Quindi fate attenzione nella scelta delle vostre compagnie, in particolar modo nel percorso spirituale. Baba lo ha detto nel mese di febbraio, il 28 febbraio 1995. State molto attenti ai Satsanga e alle compagnie. Inoltre, Swami ha anche detto che quando siamo in buona compagnia abbiamo buone vibrazioni. Quando siamo in cattiva compagnia abbiamo vibrazioni negative. Le vibrazioni hanno un effetto sulla nostra mente e sulle nostre idee e sicuramente influenzeranno i nostri pensieri. Quindi dobbiamo stare molto attenti, così come ha detto Baba. Il terzo punto che voglio portare alla vostra attenzione è molto importante. Purtroppo troviamo molte persone che vengono qui per prospettive commerciali o per motivi politici. Vengono per influenzare le persone, per il guadagno, per il loro egoismo e interesse personale. Sono persone ambiziosi che vogliono le posizioni, le proprietà e occuparsi di politica. Questo è un centro spirituale, questo è un centro di risveglio, questo è un centro di autoindagine per interiorizzarsi. Non ha nulla a che fare con i profitti esteriori come la fama, il guadagno e così via. Quindi, amici miei, concentriamo la nostra attenzione solo su Dio. Nessun altro e nient'altro. Che si tratti di un membro del Parlamento, di un Presidente, di un'unità o di un segretario non sono importanti. Solo Dio è importante, nessun altro. Come disse Swami. Posso farvi un esempio che Baba fece il 3 aprile del 1990. Stranamente, egli disse Il cuore umano è un divano ad un posto, un divano singolo. Non c'è posto per un altro uomo per sedersi. Quindi, cerchiamo di essere certi che il nostro cuore umano sia un divano singolo. Lasciate che vi sia un posto solo, un trono per Baba su cui sedersi e basta. Non deve essere occupato da nessun altro. Solo Dio, nessun altro. Non è un divano doppio. Questo è ciò che disse Swami molte volte. Non è una sedia musicale. Il cuore umano non è una sedia musicale. Dove possiamo continuamente cambiare. No, il cuore umano è un divano singolo, ha detto Swami. E in questo momento di confusione, dovrei anche condividere con voi ciò che Baba ha detto. Come sappiamo, nella navigazione, una bussola viene utilizzata per tracciare un percorso. Ogni nave ha una bussola. L'ago cambia in una direzione particolare, sempre puntando verso nord. Come l'ago della bussola che mostra la direzione, l'ago della nostra mente dovrebbe sempre essere diretto verso Dio. Dovrebbe essere rivolto a Dio, non a nessun altro. Lo stesso Swami diede un esempio il 14 gennaio del 95. Ho dato questi riferimenti per stabilire l'autenticità, la credibilità, la responsabilità di queste dichiarazioni. Ogni devoto deve quindi accettare che queste sono le parole di Swami. Non si possono interpretare a modo vostro. Egli ha parlato in termini inequivocabili, molto chiaramente, senza dare spazio a qualsiasi beneficio del dubbio. E poi posso dirvi anche un'altra cosa che Swami ci ha detto. Non predichiamo, non continuiamo a parlare e parlare. Oggi abbiamo tante persone che parlano e parlano. Riguardo a cosa? Parlano ma non agiscono. Parlano di qualità che non hanno. Non possono essere esempi per noi. Quindi Swami dice Dimentica tutto, sia un esempio da te stesso. Lasciate voi esempi per voi stessi, per gli altri da seguire, per gli altri da emulare. Questo è ciò che disse Baba l'8 agosto. Questo è un pensiero del giorno, dell'8 agosto del 2017, ed è stato pubblicato nell'Asheram l'8 agosto del 2017. Tuttavia Swami pronunciò queste parole durante un discorso divino il 19 agosto 1964, dicendo che il denaro è la valuta del mondo, la sadhana, la pratica spirituale, è la valuta dello spirito. Quando i devoti vengono da voi con le loro liste e i libri in cerca di donazioni, non offrite loro denaro. Perché avete bisogno di una sala per meditare o una sala per ripetere il nome del Signore? La presenza di altri con intenzioni diverse sarà più spesso un ostacolo che un aiuto. Invece fate della vostra casa un tempio, meditate nella stanza del vostro santuario, cantate amorevolmente Bajan a casa vostra, soprattutto siate un esempio per gli altri attraverso la vostra condotta, praticate il linguaggio dolce e sincero, siate umili e mostrate riverenza verso gli anziani. vivete con fede, fermezza e verità, in questo modo porterete più persone nella casa del teismo che attraverso la costituzione delle società, di società come raccolta di donazioni per la gestione di templi. Ricordate che il Signore si prende davvero cura della sincerità, della semplicità e della gioia costante nella contemplazione del suo nome e della sua forma, nient'altro. Questo fu il discorso divino del 19 agosto 1964, siate un esempio, cosa significa? È la vostra condotta, le vostre parole, la vostra umiltà, il modo come vi comportate con gli anziani, è il vostro amore e la vostra fede in Dio. Queste sono le qualità per essere un esempio per il resto della comunità e per altri devoti Sai da seguire. Piuttosto che i discorsi, tenersi occupati con discorsi, come politici che vanno in giro, questo non servirà a alcuno scopo, dovremmo essere migliori attraverso l'esempio, secondo Swami. Swami, anche Swami lo dice spesso, dimostrandolo in questo modo, è come uno spettacolo. Se è un'estremità è verso l'alto, l'altra è verso il basso. Quindi quando date priorità a Dio, all'estremità è superiore, il mondo avrà meno peso e l'altra estremità scenderà. Se date priorità al mondo, nell'estremità superiore, Dio avrà un peso inferiore e l'altra estremità sarà verso il basso. Comprendete quale estremità dovrebbe avere peso e valore? Questo è un discorso che Bhagavan ha fatto il 28 aprile 1997. E inoltre, a causa di alcune ragioni meschine, a causa di certe politiche molto sciocche, i devoti Sai si sono divisi. Dalla mia umile esperienza in tutto il mondo, ci sono molti centri che hanno diviso, hanno opinioni divise, differenti. Potrebbero non ammetterlo apertamente, ma le persone che hanno posizioni ufficiali restano lì. Non devono andare. I più giovani non sono pronti o forse non sono in grado a subentrare. Quindi gli anziani non sono pronti ad abbandonare e i giovani membri Sai non sono pronti ad entrare. Che cosa si deve fare? Politica, politica ovunque. Ecco perché siamo divisi in questo stato di cose. In questo stato di cose, amici miei, assicuratevi che in questo modo non possiamo ottenere nulla, proprio niente. Anzi, stiamo andando indietro con il movimento Sai. Quindi dobbiamo andare avanti, avanzare nel futuro, pensare ai decenni a venire. Oggi la cosa più importante, essenziale, è l'unità. Questa è molto importante, come ha detto Baba nel 24 novembre 1998. Per quanto riguarda Swami, dovremmo dimenticare le nostre differenze. Lasciate che non vi siano differenze su casta, credo, nazionalità, razza e religione. Dio è uno. Perché volete essere divisi in questo modo? Quindi per quanto riguarda Dio, in un'organizzazione spirituale, l'unità è davvero essenziale. Quindi comprendete che nessun altro può farlo. Solo Swami è il fattore principale. Inoltre, Baba ha detto, con spirito di unità, dovremmo dedicarci alle attività di servizio, perché servizio e Sai vanno insieme. Il servizio è la via più semplice per ottenere le sue benedizioni, per ottenere la sua grazia. Quindi dimentichiamo tutte le nostre differenze e rimaniamo uniti. Cerchiamo di fare questo sacrificio. Questo porterà all'unità, dove prima c'era disunità. Io sono il primo a dimettermi dalla mia posizione. Se si vuole stabilire l'unità, sono pronto a farlo, scendere a compromessi con chiunque per il bene di Swami e per lo scopo dell'unità. L'individuo non è importante, è importante l'istituzione. Quindi questa organizzazione, che è una potente organizzazione spirituale universale, se non vi è unità qui, dove può esserci altrove? Non è vero? Dove altro potete aspettarvi l'unità? Quindi esaminiamo noi stessi in che misura siamo uniti. Perché non c'è una totale unità tra di noi? Risolviamo tutte le differenze, sistemiamo tutte le nostre differenze e manteniamoci uniti. In questo modo Swami sarà molto orgoglioso di noi. Notate un altro punto in cui ha detto, sarò estremamente felice se sarete tutti veramente uniti. Se non vogliamo rendere felice Baba, perché questa appartenenza, perché questa posizione, perché questo centro? Perché cosa? È una perdita di tempo. Se non camminiamo lungo la strada nella direzione che vuole che noi andiamo, tutto ciò sarà inutile, amici miei. Quindi lavoriamo per raggiungere questa unità se manca, anche se potremmo non ammettere pubblicamente che manca l'unità. E poi posso anche dirvi quello che Swami ha detto. Non dovreste provare cattivi sentimenti l'uno verso l'altro. Dovreste provare sentimenti fraterni fra di voi. Non odiare nessuno. Perché? Madre, padre, guru, Dio. Quando Baba è nostro padre, non siamo noi i suoi figli. Come possiamo quindi combattere gli uni contro gli altri? Se nostra Baba è nostra madre, possiamo avere differenze fra di noi? Non dovremmo avere alcuna differenza di sorta. Dovremmo rimanere uniti. Questo è ciò che ha detto Bhagavan. E inoltre, amici miei, qualcuno potrebbe venire a raccontarvi una storia. Iniziereste a crederci. Qualcuno potrebbe parlarvi della loro esperienza. Quindi inizierete a sviluppare fiducia in questa cosa. Non è così? Non seguite ciò che non sentite. Non seguite ciò che dicono gli altri. Seguite solo la vostra coscienza. Seguite la vostra coscienza. Seguite la vostra esperienza. Non le esperienze degli altri. Questo è ciò che ha detto Baba il 29 settembre del 1960. Questo è quello che Baba ha detto. Seguite la vostra esperienza. Sì, ma per avere l'esperienza cosa si deve fare? Bene. Per quanto io possa dire che il fuoco brucia, potreste non ascoltarmi. Potreste non avere fiducia in me. Mettete la vostra mano sul fuoco. Allora avrete l'esperienza di ciò che brucia. Che cos'è il fuoco? Quindi avendo avuto l'esperienza con Swami, avendo avuto esperienze divine con Swami in tutti questi anni, non potete cambiare la convinzione sulla base di ciò che dicono gli altri. La vostra coscienza è l'eterna testimonianza. Questo è quanto ha detto Bhagavan. Inoltre alcune persone potrebbero venirvi a dire, per amore mio, per te, voglio portarti con te sulla strada giusta. Ti sto dicendo questo per il mio amore, perché mi preoccupo per te, amico mio. Stupidaggini, stupidaggini, assolutamente sciocchezze, sciocchezze assolute. Ciò che Baba ha detto è, potete amare tutti, ma non dovete fidarvi di tutti. Amate tutti, ma non fidatevi di tutti, perché la fiducia potrebbe essere tradita. La fiducia a volte è fuori posto e vi tradisce. Quindi la fiducia potrebbe essere una cosa sbagliata. Potete amare tutti, come ha detto Baba il 6 maggio del 2002. Quindi non fidatevi di nessuno, ma amate tutti e servite tutti. Questo è ciò che ha detto a Bhagavan. Amici miei, il prossimo punto importante sugli insegnamenti di Baba è questo. Dovremmo avere un'idea corretta sugli insegnamenti di Baba. Alcune persone l'interpretano in modo errato o l'interpretano per la loro convenienza. Alcune persone citano Baba in modo errato o per il loro conforto. Li applicano secondo la propria logica e il loro ragionamento, ma non è giusto. Significa che non abbiamo compreso la profondità dei suoi insegnamenti. E non li consideriamo validi. Non potete continuare a cambiare gli insegnamenti di Swami in quel modo. Gli insegnamenti di Swami sono diretti. Se li consideriamo davvero validi, non dobbiamo citarli male. Come Baba ha detto nei suoi insegnamenti del 27 settembre 2006, le lezioni dei Veda, i miei insegnamenti sono contenuti nelle lezioni dei Veda. Questo è ciò che Baba ha detto. Gli insegnamenti di Swami trasmettono l'essenza dei Veda. Il primo corpo delle scritture indiane. E inoltre ha detto, nei miei insegnamenti e nelle mie conversazioni troverete l'essenza di tutte le scritture e di tutte le Shastra. Questo è ciò che ha detto Swami. Perciò, mentre seguiamo gli insegnamenti di Swami, mentre ascoltiamo i suoi discorsi, leggiamo la sua letteratura, cerchiamo di comprendere che stiamo attraversando anche i Veda, stiamo passando per i Shastra, le scritture, dovreste assorbire i suoi insegnamenti con riverenza e fede in modo che siate in grado di mettere in pratica ciò che ha detto e ciò che si aspettava da noi. Questo è ciò che disse Swami. Seguite i miei insegnamenti e otterrete successo. E disse inoltre, amateli, adorateli e seguiteli. Amate gli insegnamenti di Swami. Questo non viene affatto oggi. Adoriamo Swami e poi agiamo a modo nostro. Non ascoltiamo i suoi insegnamenti, non leggiamo nessuna letteratura. Non abbiamo conoscenza della filosofia di Swami. Cosa possiamo sperare allora? Che cosa speriamo di raggiungere? Ecco perché molto spesso siamo incliti ad andare nella direzione sbagliata. A volte siamo inclini ad essere deboli. Cerchiamo di essere fortemente affermati, di avere fiducia, cercando i suoi divini insegnamenti. Questo è quello che ha detto Swami in questo discorso, che vorrei menzionare, ed è una cosa importante su Swami. Abbiamo un'organizzazione. È un'organizzazione come qualsiasi altra al mondo? No. Questa organizzazione ha una missione con una visione. Allora, qual è la missione di Swami? Qual è la missione che è andata avanti nel suo nome? Che cosa sta succedendo? Cosa dice Baba? Fatemi portare alla vostra attenzione ciò che ha detto il 4 luglio del 1968. Cosa ha detto? La mia missione non è pubblicità. La mia missione non è quella di stabilire alcuna setta o qualsiasi altra religione. Cerchiamo di essere chiari a riguardo. Non ho bisogno di pubblicità. Oggi vogliamo solo pubblicità, ha detto. Non sono venuto qui per stabilire alcun credo, alcuna religione. Ma noi non siamo una setta particolare, un gruppo particolare, un sottogruppo. E quindi, restringendo il programma divino e la missione divina, Baba ha detto tutte le religioni sono mie, tutte le forme sono mie, tutti i nomi sono miei. Ricordiamolo sempre. Perché? Dobbiamo sempre tenere presente la filosofia e l'ideologia universale di cui Swami parla nella sua missione. E poi disse, non ho intenzione di radunare seguaci. Che cosa sta succedendo nel mondo? Tutti vogliono avere un numero di seguaci e attirare seguaci per pompare il loro ego ed essere lodati. Tutti vogliono seguaci. Seguono come pecore cieche. Noi non dobbiamo fare questo. Swami non è interessato ad avere seguaci perché crede nelle persone che seguono i suoi insegnamenti, nelle persone che hanno una ferma fiducia in Lui e nelle persone che lo hanno nel loro cuore. Questo è ciò che è importante. Quindi non semplicemente essere un partito politico con un numero di seguaci. Ecco cosa ha detto Bhagavan. Non sono qui per raccogliere seguaci. Non sono interessato e non ho intenzione di attirare nessuno. Guarda quello. Abbiamo esaminato queste linee, amici miei. Non ho intenzione di attirare nessuno. Cosa sta succedendo ovunque? Attrazione, pubblicità, ego, spettacolo, tecniche sociali. Queste cose stanno succedendo nella convinzione che avere un certo numero di seguaci supporti la forza e la credibilità. Ma non è così. La divinità di Swami è la credibilità. È tutto, la sua divinità. Pertanto non vuole nessun numero di followers. Non è interessato a collezionare persone intorno a Lui. E non ha una dottrina speciale. Nessuna. E poi cosa ha detto? Sono venuto qui per stabilire la fede a livello universale, intendendo l'unità di tutte le religioni. Tutte le religioni sono uno. Questa è la sua filosofia principale. Eppure troviamo persone con idee come queste. Questo è ciò che piace a Swami. Questo è ciò che Swami fa. Chi ha detto che a Swami piace questo o quello? Swami non ha simpatie o antipatie. Non è duale. È al di là delle simpatie e delle antipatie. Pertanto cerchiamo di capire che appartiene a tutti e tutti gli appartengono. Questo è ciò che dovremmo capire. E poi Swami disse, il mio punto di vista è questo, mostrarvi la via dell'amore, la via dell'amore. Notate questo punto. Siamo sulla strada dell'amore? Mettetemi in discussione. Cerchiamo di ottenere la risposta. Lasciate che la vostra coscienza sia soddisfatta della vostra risposta. E poi Swami dice e vi insegna il dovere dell'amore. È vostro dovere amare. Siete una persona religiosa. Siete membri dell'organizzazione SAI. Avete l'obbligo di amare. Siete obbligati ad amare perché ci ha amati. Swami adorava tutto. Quindi il nostro dovere di noi tutti è di amare tutti. Grazie. Grazie. Grazie.